Nuovo attacco all'arma bianca in Cina. L'aggressione avvenuta nel sud del paese in una stazione di Guangzhou, storicamente conosciuta come Canton, nella provincia di Guangdong. Almeno sei feriti. Persone armate di coltelli hanno attaccato i passeggeri. La polizia ha risposto aprendo il fuoco contro uno degli aggressori che sarebbe morto. Cresce la preoccupazione nel paese. Questo è il terzo assalto nell'ultimo anno. Il più grave è stato quello di stampo terroristico del 1 marzo scorso nella provincia dell'Uyunan, ad opera di gruppi separatisti uiguri, la minoranza islamica.